Gentile Gentile In questa storia che cosa c'è? Gentile, vi dicevo, è quello che ha avuto ha avuto la discepolanza perché Gentile era un professore universitario anzi era un mostruoso barone in realtà perché essendo popolo naturalmente aveva investito sulla carriera accademica non era un latifondista come la voce e essendo barato era andato in carta dell'aspetto ed essendo anche abile si era costruito una rete di potere in pressione mettendosi poi al servizio del fascismo che diceva che uno squadrista è meglio che dieci filosofi e finendo appazzato dai partigiani nonché benché un repubblichino tentava di evitare alcune atrocità della guerra della guerra fosse sopravvissuto avrebbe visto i propri allievi diventare comunisti un'ottima cosa facilissima cosa facilissima tanto perché Togliatti amava sfisceratamente ogni filosofo e ogni intellettuale e ogni grande borghese e ogni studioso perché credeva credeva di sapere come si fa a fare politica credeva nel concetto di egemonia nel concetto di blocco storico che trovava i granci e credeva che chi è stato un grande filosofo non comunista ha in sé la capacità davanti a ciò che era successo in Italia la capacità di liberarsi degli schemi sbagliati e di essere coerente con il trend necessario della filosofia necessario cioè deve diventare trassi come questo non deve diventare trassi elastra deve diventare come l'ha fatto Gentile la filosofia deve diventare trassi diventare trassi comune è una partita in famiglia la partita fra granchi toglianti croce gentile è una partita in famiglia si gioca tutti dentro lo stesso recinto dove naturalmente l'idea di granchi e di toglianti è dentro questo recinto portiamo tutti gli altri erano ma ci sono già ci sono gentile avrebbe visto i suoi i suoi allievi diventare comuni cosa ripeto non difficile per un gentile perché gentile non aveva elaborato come invece l'aveva fatto croce alcun criterio che gli permettesse di essere antifascista cioè non aveva elaborato una filosofia della mediazione una filosofia del progresso una filosofia della distanza ancora della distinzione fra politica morale che per croce non coincideranno mai anche se asintoticamente si avvicina gentile non piace la voce mi piace tanto perché è lontano il suo modo di fare filosofia è lontano dal senso comune siamo sempre nel quaderno 10 e anche nel quaderno 11 nel caso di gentile il suo modo di fare filosofia è lontano dal senso comune e dal buon senso cioè non ci si capisce niente di primo appunto mentre croce ha uno stile filosofico oltre che letterario rispettoso del buon senso che è vero l'aveva detto anche gioventi finalmente un filosofo con un po' di buon senso dice gioventi di croce gentile gentile è dipendente da croce dice graci e so che profilo empirico ha ragione croce pubblica prima legge croce si serve di gentile per rafforzare il neo idealismo dal punto di vista tecnico cioè della storia della filosofia gentile la filosofia la conosceva più che era in fondo indirettante nel senso alto per il tempo e che non dimenticate mai comincia la sua carriera come erudito locale e poi fa il salto diventa filosofo sull'estetica evidente quando lo chiamano a Londra nel 130 lo chiamano a Londra a parlare al congresso internazionale di filosofia su della sezione di estetica poi gentile non piace per un motivo gentile è troppo immediato o troppo il congentile ti mangi tutto l'atto è precisamente il venir meno di qualsivoglia differenza non solo fra le forme dello spirito ma fra soggetto e oggetto esiste soltanto l'atto filosofico grazie al quale l'atto del pensiero pensante consapevole di sé grazie al quale il filosofo è un punto nel quale punto è concentrato tutto il sapere e tutto la gente della storia non c'è niente se sei filosofo radicale ammetterai che non c'è niente fuori del tuo filosofo scompare il mondo esterno non è neanche una filosofia della coscienza perché la coscienza è ancora mediazione fra stati psicologici no è filosofia in cui il discorrere la mediazione la discorsività del pensiero sono contratte condensate condensate in un punto ogni atto del pensiero è la creatura del mondo è un mille e basta il pensiero si mangi le differenze e dunque non c'è bisogno di una filosofia né di un sapere ma di senso delle istituzioni non c'è bisogno di un sapere giuridico non c'è bisogno di un sapere storico questi saperi quando passano nelle mani dei filosofi del filosofo quando passano nelle mani del filosofo questi saperi perdono la loro parzialità la loro astrate la loro settorialità e diventano non perfidi di filosofia perché la filosofia non ha parte diventano atto quando pensi quando io penso tutto il pensato sta dentro di me questo atto non ha un prima o un dopo è è la cosa in sé trasformata in pensiero di sé voi direte perché si è indotto così questo? semplicemente abbreghiato quello che ebbe o croce distendono nella storia il progresso la fatica dell'umanità se alla fine se alla fine si deve arrivare alla razionale reale ma se ci arrivi ci puoi dare a pezzo vuol dire che era già possibile all'inizio allora mi spieghi questa storia questo progresso questo farsi questa fatica dove sono? sono soltanto da un punto di vista empirico non filosofico da un punto di vista filosofico c'è storico c'è storico c'è progresso c'è già tutto presente dopo che abbiamo operato tutte le critiche abbiamo fatto fuori il razionalismo il tomismo le metafisiche di tutti i tipi gli scienziati che non capiscono niente eccetera abbiamo detto abbiamo capito che la filosofia è un non c'è altro che l'atto dell'affermazione della filosofia il soggetto e l'oggetto si fondono sono la stessa cosa perché dire che questo succederà fra mille anni se succede fra mille anni vuol dire che può già succedere non si costruisce l'universale a perfetti finché pensi in termini di universale beh allora può dire che il universale c'è già se c'è già la sua determinazione filosofica pura non è aspettare che si sveli basta se già svelato metti con io con me basta voi direi beh cosa serve questo ma un mucchio di cose si ci fai un mucchio di cose questa cosa ci fai tanto sei all'altezza della filosofia della più importante filosofia europea questa è a tutti gli effetti una filosofia dell'immediatezza sua che mancava un attimo e diventava cosa mancava mancava il coscienza qui non c'è nemmeno la coscienza qui c'è soltanto la teorese la filosofia è solo filosofia teoretica e atto di uno che pensa a se stesso poi ci fai polemica durissima contro tutto il mondo e poi ci fai che sei capace di prendere ogni problema e di risolverlo allora a questo punto i critici dicono c'è un gioco di parola e grazie a critica e dice che per l'appunto tutta la filosofia politica di Gentile che si sottrae alla prova storica si sottrae non ne posso intenderla o ricostruisce la storia soltanto sulla base della storia filosofica degli spiritualisti cioè Gioberti non è Hegel questa filosofia politica ha il nome bravissimo di opportunismo cioè con uno strumento del genere innale tu vuoi giustificare tutto che vuol dire beh è la lotta contro tutti il filosofo contro gli intellettuali e Platone contro il sofista intellettuali portatori di dubbi di critica di punti di vista come si permettono quando la verità c'è già attenzione non come massiccia presenza dell'essere ma come puntuale devastante presenza dell'atto filosofico c'è già questi intellettuali mezzo giornalisti cosa vogliono? è una filosofia che voi capite non si degna se non dialogate se E dici tu hai sbagliato, povero, ma tu non puoi capirlo. Sì, c'è un posto nel mio sistema, al centesimo livello più basso, sì, c'è l'effetto. La tua posizione. Se dai il potere a uno cosa fa? Che una parte è quello che vuole, tra l'altro non fa niente. Perché? Perché va dietro a quelli che fanno e dice che hanno fatto bene. Oppure, davanti ai problemi storici o politici, si dice ma infanzo ho problemi. E già risolto. Il fatto stesso che vi facciate la guerra vuol dire che potete vivere in pace. Allora, i due si scocciano e dicono no, quanto, noi ci facciamo davvero la guerra. E lui dice no, davvero non fate la guerra. La fate a un livello inferiore. Ma a livello filosofico non la fate. Questo è, da una parte seccante, dall'altra estremamente, astutamente, forse, forse no, io sono proprio pensato a pensare che il gentile fosse un uomo onesto che veramente non capiva. che non capiva che ci sono a un certo punto di differenza. Perché le alternative ci sono. E' chiaro che invece per lui non c'è mai altra cativa. Perché riesce sempre a unificare con l'atto fruo del pensiero ciò che nella volgare empiria è separato. Se io posso pensare il fascismo e il comunismo allora stanno insieme. E' colpa loro che non capiscono se si fanno la guerra. Il mio compito di filosofo è di dire che invece non deve. E' inessenziale questo farsi la guerra. Che comunque è una brutta cosa a farsi la guerra. Perché se si fa male. Voi capite che a un certo punto questo vuol dire stata la parte del più forte. Probabilmente senza capire quello che stai facendo. O, come diceva Grange di Croce, ah che capisce benissimo è che è latifonfista. Ma questo non era latifonfista. Questo campava col suo stipendio e i soldi che faceva con la casa editrice se ne sono. Che è il suo. Niente di paragonabile. No, qui c'è proprio una una cosa curiosa che è capitata anche a Dierlinger che ripeto è una strumentazione filosofica tutta diversa. Alla fine quando diventi il filosofo dell'immediatezza perdi la capacità del dialogo. E come diceva Anna Arendt di Dierlinger è come una volpe che si è scappata da una cara bellissima dove nessuno non potrà mai stanare. Sì, però c'è rimasto dentro anche lui e non riesce più a vedere lui. A un certo punto è detto un pensiero ossessivo che pensa a se stesso e si mangia tutto il mondo finché qualcuno del vasto mondo non si scoggia. a lui è andata male che gli è stato Heidegger qualche storia e allora anche voi capite questa filosofia della immediatezza quanto mentre la filosofia della immediatezza che diventa mediazione morale resta di croce irritagranici perché vivete in tentativo di mangiarsi il maxismo qui non c'è irritazione qui c'è rabbia. Il quaderno 1 ci dice che quella di gentile la filosofia politica della azione che sollevrebbe una cosa molto insintonia con con granchi con sovere con la parte soverelliana di granchi cioè no questo è opportunismo ed è o anche se volete gladiatorismo dall'onof cioè uno che si atteggia al super uomo eroe che combatte contro tutto il mondo ma in realtà non sta rischiando perché sta vivendo in un mondo di fantasia tutti i suoi perché croce capiva capiva filtro questo o non capisce quello che non serve voi vedete come granchi giochi continuamente sul pedale della mediazione sul pedale della immediata croce è troppo immediato perché non pensa un partito né restituzione però è troppo immediato cioè è ancora prigioniero di una filosofia stratta che lui stesso si costruisce per uscire dalla necessità questo è troppo immediato si mangia ogni connessione e non manca ogni differenza ogni conflitto e ogni confluenza si mangia in un atto di pensiero il che lo rende immediato sempre comunque cioè sempre al servizio non è nai capace ecco con croce si fa in gentile perché si fa in gentile con gentile perché è rire perché non è nessun borghese gentile gentile è un esagerato è uno che la vuole sempre sapere più lunga degli altri ha sempre la soluzione di quelli che gli altri vengono come problemi di soluzione del padre però c'è è facile più lo così diventi comunista quando era comunista di susseglie cioè è un benaltrista i problemi che voi avete davanti oggi sembrano enormi problemi ma in realtà ce li hanno così non più bene